Un altro spazio dedicato allo sport alla Pallamano, con noi è il presidente di Agri Blu, Scicli, società di Pallamano, Enrico Parisi Assenza. Sta cominciando la nuova stagione, prima di parlare di questa edizione 2017-2018, volevo parlare con lei, visto che ha una profonda conoscenza della Pallamano a Scicli, una disciplina sportiva che ha una tradizione forte, radicata. Parisi? Sì, la Pallamano a Scicli ha una storia ben radicata, come stavo accennando prima, è da quasi 40 anni che c'è questa disciplina nella nostra città, ha avuto anche riscontri positivi, siamo stati per 4 anni in Serie 2 e abbiamo sfiorato anche la Serie 1 con i play-off del 2014, quindi è un movimento abbastanza radicato. La Pallamano a Scicli vuol dire anche un blasone e questo è anche un rispetto che voi constatate quando andate in trasferta c'è la memoria storica che aiuta a farvi temere. Una nuova stagione sta per cominciare, qual è il progetto 2017-2018 di Agri Blue Pallamano a Scicli? Il progetto è semplice, è quello di riportare entusiasmo dopo due anni di partecipazione al campionato DB non con risultati eclatanti, ci siamo mantenuti in categoria, però adesso sentiamo l'esigenza di dare lo spazio ai nostri giovani, però affiancandoli con degli atleti esperti e quindi abbiamo fatto per questa campagna acquisti, abbiamo fatto qualche sforzo in più, abbiamo preso 4 giocatori di categoria superiore, più siamo riusciti a riconfermare il nostro bomber degli ultimi tre anni, il rosolenese Martino e quindi un altro colpo ce lo riserviamo per la fine del mercato fra qualche settimana, ma stiamo allestendo una squadra che sicuramente sarà protagonista in questo campionato. Parisi, in qualità di delegato provinciale Pallamano Ragusa c'è questo progetto che entra nelle scuole, con quali risultati? Il progetto scuola come federazione sono riuscito a far attrezzare tutte le palestre delle scuole, dico tutte, magari è un epimismo, ma alcune scuole, ben 15 plessi scolastici di kit composti da porte, palloni, casacche, tutto in forma gratuita e anche uno dei nostri tutor in ogni istituto, cioè su Modica, Scicli, Ispica e Vittoria. Un obiettivo finale che è quello di promuovere la palla a mano, di diffonderla il più possibile cominciando dalle scuole. Sì, sì, perché è fondamentale iniziare dalla base, dalle classi primarie che purtroppo non fanno attività motoria perché non è prevista in questo tipo di scuola. Tornando al campionato che comincerà a novembre, incrociando le dita, ci sarà quell'obiettivo? L'obiettivo si raggiungerà finalmente, Presidente? L'obiettivo già una volta l'abbiamo raggiunto, abbiamo fatto questa promozione in A2 e ci proviamo, sicuramente l'organico ci fa ben auspicare a un certo tipo di risultato. Poi è il campo che decide alla fine. Poi è il campo, certo. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie a voi.